Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri dell'Istituto Comprensivo Casale 3 di Casale Monferrato hanno vissuto l'eccezionale ed emozionante collegamento in diretta con la ISS, International Space Station, e in particolare con l'astronauta Samantha Cristoforetti, impegnata dal 23 novembre dello scorso anno nella missione futura. La scuola Dante Alighieri è stata infatti selezionata dall'Agenzia Spaziale Europea ESA per il programma Ari School Contact, che mette in contatto gli astronauti a bordo dell'ISS e le scuole di tutto il mondo. La Cristoforetti aveva raggiunto la stazione spaziale a bordo di un veicolo Soyuz. Si tratta della prima missione di una donna italiana nello spazio. La Cristoforetti si trova a 400 chilometri dalla terra e al momento del collegamento la stazione era sopra l'isola di Cuba. Un'emozione forte il collegamento con lo spazio con Samantha Cristoforetti. Per noi della scuola non è stato mettere il piede fisicamente sulla luna, ma abbiamo toccato il cielo con un dito perché è stata un'opportunità che abbiamo colto al volo. Entusiasti i ragazzi hanno dimostrato tutte le loro creatività, le loro conoscenze al di fuori della sua tavola scolastica. Mi sembra che anche l'emozione che hanno dimostrato con un silenzio quasi assoluto nell'ascoltare le parole dell'astronauta Cristoforetti quando si è rivolta a loro sia stato anche il premio di tutto l'impegno che abbiamo messo per questa giornata sperando di essere stati all'altezza delle situazioni, all'altezza dello spazio, come ho detto prima perché non sembra, ma per noi è stato un grosso avvenimento. Per la nostra scuola è nata tre anni fa, quindi è la prima occasione in cui abbiamo potuto raccogliere un'opportunità un po' diversa dal solito e offrirla ai nostri ragazzi.